E' stato un risveglio innevato per Arezzo, un candido manto ha infatti creato una magica atmosfera in tutto il centro storico aretino, ma anche in molte frazioni del comune. La neve era stata annunciata da giorni e alla fine, nelle prime ore del mattino, ha fatto la sua comparsa con spolverate più o meno abbondanti. I primi fiocchi sono scesi attorno all'una di notte e questa mattina il centro si è mostrato totalmente imbiancato. Scuole chiuse in tutto il territorio comunale aretino, decisione che ha ridotto così la mole di traffico sulle strade di Arezzo. Assieme alle scuole anche molte altre attività hanno deciso per questa mattina di restare chiuse. Stessa atmosfera suggestiva si respira anche a Ponte Buriano, il celebre Ponte della Gioconda si è infatti risvegliato totalmente imbiancato. Qualche problema in più nel reticolo viario della periferia cittadina, queste immagini ci arrivano infatti da Castelluccio e Campolucci, frazioni alle porte di Arezzo, dove alcuni cittadini ci hanno segnalato la difficoltà a transitare. Tra disagi causati da quest'ondata di maltempo, numerosi cittadini ci hanno segnalato di essere rimasti senza acqua a causa del congelamento delle tubature, che in alcuni casi sarebbero addirittura scoppiate.